Dove eravamo rimasti? Sono One! Sono Tulip. Io sono Atticus, re e unitore dei Cardigans e dei Pembrokes. È questa la gatta di cui mi hai parlato. Ti aiuto io. Volevi intrappolarmi? Basta numeri e basta misteri. Ma ormai è acqua passata. Io, Atticus e One One stavamo finalmente bene. Ta-da! Wow! Wow, bello! Quando ti lavi il tuo cuore felice! Mi mancheranno molto queste cose quando tornerò a casa. Atticus, hai visto One One? Se l'ho visto, abbiamo provato a fermarlo! Ma da quel momento in poi, tutto ha iniziato a peggiorare. Perché lo stai facendo? Sono qui per mettere tutto in ordine. Se il tuo riflesso non si consegna, la troveremo e la levigheremo finché non resterà niente di lei. Non potete ucciderla! Ehi! One One! Non puoi lasciarmi qui! Se potrò essere libera, allora lo farò. No! Non ho lasciato il mio regno andando all'avventura per nascondermi dal mio drago. Oh no, 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 no. Andate giù. Girata a sinistra e poi a destra. La porta è lì vicino. Che colpa mia? Sarebbe stato tutto più facile per tutti noi se tu ti fossi semplicemente fermata. Non porterete un frammento nel mondo originale! Il treno non è mai finito, gattina. One! No! One One! Fermati! Distruggerai tutto! Sono nata pronta! Mamma! Mamma! Grazie a tutti